Senza memoria non esiste futuro. Per questo motivo anche questa mattina a Valeriano si è voluto ricordare il rastrellamento del 26 gennaio 1945, ultimo episodio della battaglia del Gottero dove si scontrarono le formazioni partigiane e le forze nazifasciste. Valeriano è passata infatti alla storia come roccaforte della resistenza, luogo in cui i tedeschi provarono ad accerchiare i partigiani. Oggi siamo di nuovo qui e ho avuto una soddisfazione immensa di vedere una partecipazione in un centro abitato che ha dato tanto in quel giorno del rastrellamento nazifascista su Valeriano. Salire a Valeriano significa anche riabbracciare idealmente Amelio Guerrieri, comandante della brigata Zignago, che consentì ai suoi uomini di salvarsi dall'imponente rastrellamento. Riportare e ricordare degli amici che oggi non ci sono più per chiari motivi di età ma che hanno dato tanto non solo per quell'esperienza precisa su Valeriano ma anche per quella che è stata la lotta partigiana sul Gottero e poi per il giorno splendido della liberazione alla Spezia con Amelio Guerrieri che ne rappresenta un po' il fulcro in prima fila a portare la libertà anche nella nostra provincia e nella nostra città. Per questo motivo Roberto Chella ha scritto un libro per ricordare i tanti partigiani di Valeriano e dei molti che hanno dato la vita per la causa della libertà e della democrazia. Era un atto dovuto insomma a parecchi anni che ci pensavo finalmente siamo riusciti a fare quest'opera via. Purtroppo i partigiani non ci sono più e quindi ora tocca a noi andare avanti. Ma quei valori di fratellanza e di comunità che furono la base della resistenza si allacciano inevitabilmente alle cronache di queste ore dove un'intera città ancora una volta si dimostra solidale nell'accogliere gente in fuga dalla miseria e dalla guerra. Quello che fu fatto a Valeriano, quello che i partigiani della resistenza della nostra provincia hanno messo in atto non è stato soltanto un sacrificio generazionale diciamo ma la voglia, la forza di costruire un mondo libero, libero dal fascismo ma anche più giusto e più solidale. Quindi quello che è successo, che sta succedendo in queste ore a Spezia deve darci la forza di rivendicare quel sacrificio e quell'orgoglio dei nostri ragazzi partigiani e dire chiaramente che la solidarietà non è un bene negoziabile ma è un dovere civile e morale.